L'assessore al welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, informa che è stato pubblicato l'avviso pubblico che si rivolge alle imprese sociali e alle cooperative sociali e ai loro consorsi per una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro. Le proposte progettuali dovranno svilupparsi nell'arco temporale massimo di 18 mesi dall'avvio e dovranno necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2023. Gli obiettivi sono il sostegno alle sperimentazioni di servizi, iniziative, attività, prodotti o soggetti di innovazione sociale in cui il valore economico si integra con il valore sociale prodotto per le comunità di riferimento, intervenendo in settori che privilegino la valorizzazione del territorio, l'integrazione tra generazioni e l'inclusione sociale. Le aree prioritarie di intervento, spiega la Barone, spaziano dall'attrattività del territorio con modelli innovativi e diffusi all'agricoltura sociale, dal sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro per le fasce più deboli al recupero dei mestieri tradizionali, fino alla promozione della cittadinanza attiva per il contrasto all'illegalità.